Oggi vorrei parlare di risonanza. Un mio amico ha un'azienda agricola importante a Montalcino. E' avuto la bella idea di mettere la musica di Mozart nei vigneti. E' diventato famoso. E hanno fatto delle ricerche con l'Università di Pisa e di Siena. E hanno scoperto che servivano l'80% in meno di antiparassitari. E che le barbatelle sottoposte alla musica crescevano quattro volte di più. Qual era il motivo? I parassiti dell'uva si accoppiano attraverso delle vibrazioni. La musica di Mozart interferisce con la vibrazione degli insetti. E quindi impedisce a loro il loro accoppiamento. risonanza. Un altro dei termini che viene completamente ignorato nella nostra cultura. Un altro esempio di risonanza. L'autrice di Molecole di Emozioni, Kandanspert, quando era una giovane ricercatrice, ha scoperto le endorfine. E sapete cosa ha scoperto? Ha scoperto che i recettori delle endorfine sulle cellule attendono le endorfine. Quando questi peptidi arrivano in prossimità del recettore, incominciano a vibrare. Il recettore a sua volta vibra e quando raggiungono la risonanza, la proteina entra in peptide, entra nella cellula. Quindi la comunicazione tra esterno e esterno delle cellule avviene per risonanza. Quindi la risonanza dovrebbe essere un elemento importante. Oppure pensiamo alla fisica moderna, no? Alla onda particella. Eppure nessuno la considera. Pensiamo a un sasso gettato nello stagno. Le onde si espandono. E possono entrare in risonanza con altre onde o un'interferenza. Se i ritmi sono diversi. Ora, pensiamo a noi, esseri umani. E pensiamo di mettere nel campo, tirare il sasso della paura. Codice della paura, retorica della guerra. Guerra, paura, vincere, combattere. Questo sasso produce onde e tu ci sei in mezzo. Qual è la sfida? Ascoltare il tuo ritmo interiore. Se ascolti il tuo ritmo interiore, hai la possibilità di entrare a poco a poco in risonanza. E non farti portare via dalle onde informazionali che arrivano da fuori. Quindi, parola d'ordine. Ascolta il tuo ritmo e seguilo. Aggiungiamo un'altra nota. Proviamo a immaginare decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, centinaia, non so esattamente quanti fossero i soldati nato in Afghanistan. Immaginati decine di migliaia di fondamentalisti islamici, non sulle loro scalcinate pick-up, ma con tutto l'armamentario a disposizione della Nato, bellico, l'armamentario bellico di prima generazione, invadere il nostro paese, invadere l'Italia, scorazzare ovunque, ricercando i nemici e restandoci per vent'anni. Come ti sentiresti? Cosa succederebbe in quei vent'anni? Pensi che diventresti amico loro? Pensi che acquisiresti la loro mentalità? Lo cercheresti in una tua via di liberarti, di combattere? Questo ovviamente lungi dal fare apologia di talebani, ma che risonanza hanno messo per vent'anni? Che vibrazione! Che sassi nello stagno hanno tirato per vent'anni le forze nate in Afghanistan? E adesso si ritirano e si aspettavano un po' di caos. Ma pensa! L'ho già detto, ma pensa a tutti quei miliardi di migliaia, migliaia di miliardi investiti con l'intenzione di entrare in risonanza con il campo, con l'ambiente, con la cultura, anziché in interferenza. Non abbiamo la controprova, certo, ma abbiamo quasi la certezza. Abbiamo la certezza intanto che entrare in interferenza non ha funzionato e che nessuno ha provato a entrare in risonanza. partiamo da noi entriamo in risonanza con chi abbiamo intorno e come possiamo fare anche se le onde le emanazioni culturali, comportamentali, emozionali degli altri sono diverse. Entrare in risonanza vuol dire ascolta il tuo ritmo prima di tutto. Il tuo ritmo e il tuo ritmo viene da dentro e lo riconosci solo ascoltando. e quando lo senti seguilo e portalo in contatto con quello degli altri e tollera l'interferenza. Stai lì, dialoga fino a che din din si crea una risonanza per la quale la comunicazione cellula e ambiente può avvenire. La comunicazione tra il tuo mondo e il suo mondo può avvenire. Quindi oggi parola d'ordine ritmo risonanza buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata.